Se io propongo una candidatura giovane sotto i 50 anni per Fratelli d'Italia è un'offerta oggettivamente congruente. Fermo al restando che ribadisco, noi lavoriamo sempre alla sintesi, quindi se il tavolo di coalizione non trova un'altra sintesi alta, noi non possiamo che essere d'accordo. Ma noi partiamo dalla nostra proposta e il fatto di aver scelto una proposta giovane e che non abbia avuto esperienza di amministrazione in questa ottica, Palermo ha bisogno oggettivamente di avere un occhio nuovo per essere governata, c'è un occhio nuovo di chi ha visto tanti dei propri coetanei forse dovere purtroppo andare a lavorare al nord perché ancora nel 2021 Palermo è matrigna nelle sue figlie dal punto di vista culturale, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dello sviluppo. Quindi forse serve un occhio tra virgolette più giovane e più legato a questo tipo di impostazione che erano le vecchie logiche. Mi sembra corretto dire che la questione anagrafica a fine a se stessa è qualcosa che secondo me va vista in un'ottica più generale, per cui per carità ben vengano candidature giovani, ma quello che credo che conti sia innanzitutto la conoscenza del territorio, il rapporto col territorio, anche un minimo di esperienza politica naturalmente, per cui io non ne farei una, cioè l'età è un elemento che può aiutare, ma certamente non può in nessun modo essere potrebbe dare una spinta, diciamo un elemento non proprio caratterizzante, ma potrebbe essere un elemento. Certo, è uno degli elementi che magari un elettore può prendere in considerazione, ma è naturale che quello che conta è la competenza, poi anche rispetto al percorso più generale, io prima ho chiesto a Raul la questione, ma per un semplice motivo, noi oggi viviamo un periodo in cui la pandemia e tutto il resto ha necessariamente astratto i temi, per cui quando parlo di sovranismo o di europeismo, come quando parlo di vaccini o di non vaccini, è chiaro che è una coalizione politica come la loro, perché la nostra avrà una fortissima connotazione civica, perché ci sono molte forze civiche che sono all'interno, loro sono una connotazione politica forte, fatta di partiti di fatto, questo è un tema di rimente secondo me, come la questione che diceva prima rispetto a rivoltare a Palermo come un calzino, in questo momento ancora aspettiamo che si presentino in Consiglio Comunale per votare il piano triennale, dico se hanno tutte queste idee cominciamo a metterle in campo, ma anche per farsi campagne elettorali, come anche il fatto di sfiduciare Orlando che non è più arrivato, avevano tutti i numeri per farlo, ci sono queste cose che mi chiedo, perché è normale che… Questa sfiduciare Orlando è un po' la rabbia fenice, che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia, ciascuno lo sa. Allora, ripetisco, noi con l'Italia siamo stati i primi a presentare la mozione, infatti non parlo per te, non per vero, ma parliamo di coalizione ovviamente, è giusto. È una coalizione fatta da partiti differenti e quindi ognuno poi cerca di portare il suo ragionamento e sperando che gli altri si convincono.